No, ha finito ora di piovere da poco, è il momento di... i piatti si fanno dopo, i piatti si fanno dopo, è il momento di scendere e andare un po' sulla spiaggia. Sì sì, andiamo un po' sulla spiaggia, andiamo. Andiamo a vedere il mare com'è. Fiat, prese, cellulare, musica, viarette, cellulino, andiamo, le chiavi. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Troppo freddo. Troppo freddo. Se gli gabbiani se ne vado a domani va troppo freddo. 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 Ciao tutti. Grazie. Troppo freddo. 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 Troppo freddo.